Mi chiamo Lorenzo Gettallevi e ho 23 anni. Sono un installatore da circa 5 anni, però ho esperienze anche da quando ero ragazzino perché andavo con mio coppia in cantiere o a lavorare l'estate. Nella borsa di un installatore non può mancare assolutamente gli strumenti necessari, poi soprattutto per un elettricista o un installatore dei forbici o cacciavite. La richiesta più bizzarra che mi hanno fatto è quando stavo montando un impianto video citofonico nuovo e una signora mi ha chiesto se era possibile far sentire una voce metallica dal campanello fuori, cosa non fattibile. La cosa che mi piace più del mio lavoro è che non c'è mai un lavoro uguale all'altro. La cosa che mi piace meno è appendere i lampadari, una cosa veramente che non posso sopportare e quando me lo chiedono vorrei scappare. Urmet è migliore nel suo campo, soprattutto io valuto tanto la qualità dei materiali e l'installazione rapida. Il prodotto che consiglio spesso ai miei amici è sicuramente il Call Me con la richiamata sullo smartphone per avere sempre alla portata di tutti i giorni il citofono virtuale. Alla fine di una giornata a me piace andare tantissimo in moto, ho la passione per il motocross, mi porto la moto dietro a lavoro e se finisco prima vado in qualche pista a girare. Grazie. Grazie.